Dottoressa Travaglini, in questi ultimi anni l'import e soprattutto l'export hanno assunto una sempre maggiore centralità per le aziende italiane, anche le PMI. Sì, noi come Confindustria abbiamo sempre valorizzato la leva dell'export come leva per la crescita economica più generale. Per noi puntare sull'export nei paesi extra-UE è sicuramente fondamentale per le imprese oggi più che mai. Oggi siamo qui in Confindustria, Venezia Giulia, qui a Trieste, per promuovere la figura dell'operatore economico autorizzato. È una figura che non è nuova ma che gode di una nuova centralità nel nuovo codice doganale dell'Unione Europea che è entrato in vigore il 1 maggio 2016. Di cosa si tratta? Si tratta di un'autorizzazione ora per le imprese che esportano che permette attraverso questa certificazione di godere di notevoli semplificazioni e facilitazioni doganali in termini di riduzione dei controlli. Si arriva ad accedere persino a oltre il 90% di riduzione dei controlli doganali che, come è noto, hanno dei costi vivi per le imprese. Sicuramente quindi è un fattore positivo per le imprese. È un fattore di grande competitività. Ora le imprese si trovano a competere in tutto il mondo e poter sdoganare la merce con tempi così ridotti è sicuramente un fattore di competitività determinante per il successo delle operazioni sull'estero.